salve a tutti amici della stale bet academy ben ritrovati oggi in questo nuovo video andremo a vedere le probabilità che abbiamo di ricevere i principali gruppi di starting hands nel preflop e daremo anche qualche consiglio di massima su come gestire gli stessi partiamo col dire che per quanto si reclami l'assistenza della fortuna da una parte o dall'altra il poker è un gioco puramente basato sulla matematica in tutte le sue fasi è infatti possibile calcolare le probabilità associate ad ogni starting hands utilizzando semplici strumenti matematici e con un campione sufficientemente ampio si può notare come tali probabilità si allineano con la statistica per calcolare le probabilità di ricevere determinati mani di partenza è bene partire da alcuni concetti base il numero di combinazioni di due carte che si può ricevere totali è di 1326 per ogni coppia esistono sei combinazioni ad esempio tutte le combinazioni di assi quindi le probabilità di ricevere asso asso sono sei a 1326 ovvero uno a 221 per due carte suited invece esistono quattro combinazioni ad esempio asso k di quadri asso k di cuori e così via questa volta la probabilità di ricevere due carte suited sono quattro su 1326 ovvero una a 332 per due carte of suited invece esistono 12 combinazioni ora le principali mani di partenza sono generalmente divise in gruppi a seconda della loro forza partiamo con le big pocket pair ovvero asso asso kk donna donna jack jack 10 10 queste coppie sono le combinazioni di carte che al pre flop ci offrono ovviamente le migliori prospettive di successo sin da subito quindi la nostra linea dovrebbe essere quella di provare a prendere quanto più valore possibile dalle stesse tuttavia è bene tenere a mente che non sono imbattibili per cui non lasciarsi trasportare e giocare un buon poker resta la base per ricavarne un adeguato profitto quindi per quanto detto in precedenza sappiamo che le combinazioni possibili sono sei moltiplicato per il 5 che il numero totale delle coppie definite come big pairs avremo che ci troveremo di fronte a 30 combo diviso 1326 che il numero totale di combinazioni possibili per cento per ricavare la nostra statistica probabilistica vedremo che avremo circa il 2.26 per cento di ricevere una mano come questa in partenza passiamo quindi al gruppo delle big broadway una piccola e doverosa premessa per broadway si intende tutte le carte che possono formare una scala dall'asso al 10 questo gruppo di combo è sicuramente tra le più forti del poker essi hanno sì un ottimo valore nel pre flop ma non sono da meno nel post flop giocano molto bene sia in bluff sia per valore le volte che c'entrano il flop il numero di combinazioni possibili di questo gruppo sono 12 tutte le combo off suited più 4 quelle suited per 5 che il gruppo di mani ci dà 80 combinazioni facendo il calcolo ripercorrendo quello precedente vediamo che avremo questo gruppo di mani circa il 6 per cento delle volte veniamo quindi al gruppo successivo che definiremo altre broadway suited questo gruppo di carte è composto da combinazioni meno forti delle precedenti seppure analoghe molti giocatori però soprattutto tra i meno esperti sono spesso traditi dal fatto che le combinazioni siano per l'appunto suited ovviamente una combinazione suited è più forte di una non suited ma considerando che la probabilità di fare colore al flop è una su 118 ovvero lo 0,8 per cento queste carte vanno giocate a seconda del tipo di gioco di strategia e di posizione al tavolo e non farsi affascinare troppo dall'aspetto vediamo quindi quali sono le probabilità di ricevere questo tipo di mano nel pre flop svolgendo la nostra solita formuletta vediamo che è dell'1.51 per cento altro gruppo le broadway non suited a dir la verità non differiscono troppo dalle precedenti per i motivi che abbiamo elencato ma abbiamo preferito comunque metterle in una categoria a sé stante proprio per porre l'accento sul fatto che le carte suited non siano così influenti vediamo dunque che la probabilità di ricevere questo tipo di mano nel pre flop è 4.52 analizziamo quindi quelle che potremmo definire come le coppie medie queste coppie sono spesso tra le mani più difficili per un giocatore non particolarmente esperto si tende a dargli o troppo valore o troppo poco diciamo che sicuramente hanno un discreto shadow value e anche una discreta incidenza nel pre flop quindi una corretta analisi rispetto alla posizione la tipologia degli avversari e alla base per scegliere la linea corretta da tenere le probabilità che avremo di ricevere una medium pair è pari all'1.81 per cento delle volte vediamo quindi gli assi x suited ovvero se vogliamo asso 9 meno questo gruppo di mani si presta a disegnare una linea di blef o semi blef nel pre flop e per poi eventualmente perpetrarla anche nel post flop è fondamentale in questo caso un'ottima cognizione di causa la probabilità di ricevere un asso suited al pre flop è di 2.41 altro gruppo è quello dei suited connectors gruppo di mani con più che discrete giocabilità nel post flop anche se è evidente che se si decide di giocarlo in modo aggressivo sin dal pre flop non è per valore la probabilità di ricevere un suited connectors pre flop è pari all'1.51 vediamo quindi le small pocket pair queste coppie ovviamente non sono particolarmente forti nel pre flop ma nel post flop possono far vincere degli ottimi piatti stando attenti però a non sovrastrimare la loro forza la probabilità di ricevere come starting end o una pocket pair è pari all'1.81 analizziamo infine come ultimo gruppo di interesse gli assi x non suited in questo caso per questo gruppo possiamo fare un ragionamento non dissimile da quello fatto per le carte speculari suited possiamo dire comunque che le carte suited hanno un leggerissimo vantaggio rispetto a queste le probabilità di ricevere un asso x nel pre flop è pari al 7.24 per cento delle volte in conclusione comunque è bene sottolineare che la matematica non è tutto l'efficacia delle carte soprattutto per i gruppi che abbiamo visto essere meno forti delle big pocket pairs ad esempio dipende da altri fattori qual è la posizione al tavolo la dimensione dello stack il comportamento degli avversari e soprattutto la strategia di gioco adottata un giocatore vincente colui quale è capace di combinare aspetti psicologici analitici e matematici all'esperienza di gioco guadagnato al tavolo in modo da poter portare a casa i pot l'approccio matematico al poker è solo uno degli elementi necessari per poter sviluppare una tattica vincente detto questo io vi saluto e vi rimando in un prossimo video